Questo è stato fatto dalla mia mamma, io sono il fondatore del labirintismo. Quindi lui come si chiama? Come si chiama? Sì, mi chiama. Allora, l'ho fondato io. Questo è un quadro, è un quadro in pratica della mia mamma. Nella vita faccio il professore francese, però ogni tanto mi diverto anche a fare questa cosa. Se vi piace scrivere, anzi vi chiedo se vi piacesse aggiungere qualcosa anche in francese sul labirinto, su quello che volete, mi inviate le cose tramite mail e vi pubblico. C'è un sito internet accessibile che si chiama www.labirintismo.it, eccetera, eccetera. Questo quadro è un po' un'immagine in pratica dell'uomo labirinto, vedete? Questa parte qua è l'inconscio e questa qua è la parte conscia che non conosciamo di noi. Insomma, vedete, sono un essere umano anch'io, però ringrazio Blandine di questo gioco che ho fatto di farvi trovare. Meno male non avete letto delle cose. No, siete state bravissimi, mamma mia, avete compreso il senso, non è facile attraverso un'altra lingua straniera.